Salve, mi hanno detto che da queste parti c'è un posto dove tutte le mattine dalle 8 alle 9 e 30 si parla di attualità, di politica, si ascolta la voce della gente, sa per caso indicarmi dove lo posso trovare? Certo, lo conoscono tutti! Prosegua dritto sull'FM, poi svolti sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma, e a quel punto non le rimane che... Citofonare ad Inolfi! Citofonare ad Inolfi, tutti i giorni, dalle 8 alle 9 e 30, su Radio Yes. Risponde, Mario Adinolfi!